Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo massimo video del vlog Ragazzi come ho detto sempre porto più vlog e meno gameplay Gameplay non le porto proprio Non perchè mi piace vloggare e parlare con una telecamera Che sarebbe anche quello che mi piace E no portare gameplay a voi Ma io ho un iphone, sto registrando con quello, un iphone 4s E no, iRac a me non mi va bene No che non mi va bene, non me lo fa scaricare E non posso registrare lo schermo anche se faccio una serie di minecraft E volevo dire una cosa Io Non lo so se in un vlog l'ho detto ma credo di no Mi è arrivata No, mi sono comprato la PS4 ragazzi Io già c'era la PS4 Però se voi mi consigliate nei commenti Come Io vi posso portare anche dei gameplay però di GTA 5 per esempio Un po' di cazzeggio Però non si vedrà tanto bene Perchè Io so registrare lo schermo di Della televisione E' con la PS4 Però non so passarli o su telefono O su computer Perchè mi ha detto un mio grandissimo amico TechGaming89 che saluto Che Mi ha detto che Cosa dire Non con Se io lo passo sul computer Tutti quei file che video che ho fatto Solo che a me Mi devono arrivare Entro il 7 gennaio Mi devono arrivare delle cuffie Che ho comprato su Amazon Con il microfono Così posso parlare Anche E poi se Anche portassi gameplay su GTA Non Non lo potrei fare su GTA online Però Non credo che vi importa tanto Però Credo che li porterò Perchè mi devo andare a fare L'abbonamento E Mia sorella sta per spegnere la luce E allora Blackout Comunque Comunque ragazzi Aspetta Comunque ragazzi Volevo dire Se io porto più vlog Perchè non posso registrare Con L'iPhone Non posso registrare Con L'iPhone Ragazzi Comunque questo video Finisce qui E volevo dire In questo video Approfittarne Per dire Dai Giussi Dopo No Dopo Approfittarne Che Volevo dire A Sassy Gamer E a Tony Gamer Che Loro stanno facendo Un Una serie Diciamo una serie Che Stanno ancora a primo livello Di parkour Su telefono Ragazzi Voi che fate La serie di parkour Non parlate Napoletano Che se parlate Napoletano La gente Non scondisce Bene le vostre parole Comunque Tutto questo Comunque questo video Finisce qui Lasciate un like Un pollicione in su Pollicione in su Non condividete Perchè Condividete anche Lasciate nei commenti Perchè Credo che Nel prossimo vlog Che farò oggi Con Sassy Gamer Vedrò I vostri commenti Ragazzi Comunque Tutti nei commenti Hashtag Haimai Voglio fare anch'io Non vi porterò I commenti Sotto nella barretta Però Me li scriverò Su un foglio E tutti Hashtag Haimai 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 buttato Qualcuno Giù per la finestra Ragazzi Questo video Finisce qui Lo concludiamo Sono a 5 minuti Di registrazione E ciao